Dovete vincerla, non importa come, ma la dovete vincere O quantomeno non perdere Libers, lo sai se si perde la lane è finita per noi? No, me la perdo io, io ne ho preoccupato Io ho preso il Darkseer, l'ingegno ne ho fatto con l'anello o con la clota armor Solo questo Ci miro e poi il Bodo dovrebbe sputtare praticamente prima del flash rodino Ma che non ce l'ho? Ma non è un giusto, non la dovrebbe sputtare, non è un uomo che vuole La legge è stata a te Ah, non è una regge Quando avrò finito Non l'ho dovrebbe finito Questo cazzo Sto cazzo Il segreto per diventare un buon giocatore di League of Legends è diventa strabico. Se strabico diventerà molto più facile il giocatore. Non diciamo cazzà. Che ha detto Zero quando è venuto qua che non ha voluto le cuffie. Buono insomma. Poveri. Ma cos'è attivante? Vince prima dei 30 minuti? 33. Assolutamente la di Kerry in qualunque caso. Allora io l'unica cosa che se vo' addosso a Zero di Q ci devo andare dopo il suo saltino altrimenti mi fa. Perché dopo il primo gioco? Lui salta lì indietro. Se io li lascio addosso al Q e lui mi salta lì indietro. Eh! Ah! Se io li lascio addosso al Q e lui mi salta lì indietro. PORCAPUTA Ora! Se io li lascio addosso al Q e lui mi salta lì indietro. Ah! Arrivo su Sergio. Vado? Perchè non l'hai preso? Allentalo. La fai? Come primo sangue mio. Eh! Vado bene. Vado bene. Vado bene. Vado bene io ho paura. Sì sì era giusto per recuperare un po' di vita. Vado bene. I prossimi engage saltano tutte e due. Occhio che potrebbe essere ancora qui. Non c'è Zoe. Credo sia andata di nuovo in base come quina. Hai lo stun? Usalo. No aspetta. Aspetta aspetta. Sì, su 0 Cosa starà dicendo adesso? Liberse Hai... Tra quanto c'è un altro? Quanto? Più o meno, circa Non mi trece, Adam Almeno state zitti Io vi reporto dopo questo Che è successo? Per cosa? Appunto, per cosa vi reporta? No, controlla, controlla Ah no? È un sistema automatico Ascolta, io vado di Shin Pilito tanto danno, ma li fu anche tanto danno No, occhio Arrivo, 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 arrivo No, tranquillo, tranquillo, non è un problema Vuoi fare il re, ce l'ha avrì? Ok Ma io ascolta, io penso che quando fa il 6 si va di double, che è due volte Eh, non ho per ingaggiare Madonnone Ah, aiuto Aiuto Arrivo, arrivo, arrivo Picchia, picchia, combatti, combatti Maledetto No, lo sa, lo sa Vabbè, che vuole Dove è andato? Mi accade Eh, qua, la del sub blu Esattamente al sub blu in questo momento Quindi occhio che potrebbe arrivare qui sotto Mi manca Ai, lo stun Cosa cazzo No, tu be' No, tu be' No, tu be' Però mi dare quello che gli danno tutti E prende una parte Sonia ha fatto il 6 Eh, Zoya Ora mi senti che mi vogliava Anche io c'ho il 6 Arrivo anch'io Maledetto Di quanto si è salvato Eee Ok, va bene Purtanto al 6 di verso Perché ci devo morire io per voi? Aspetta, aspetta, aspetta Fammi fare la wave dream Miei C'ho il 6 Sì, anche io Padellare tutti Ti vado Arrivo mid Sì, sì, fai tranquillo Ok Ma che ce lo sta facendo? Lei? Io stavo cercando di schivare le porte Vado Vai, c'è Non l'arrivo Vabbè, vabbè Che palle Vabbè, ha usato un po' di mana, ok Sta girando i coglioni che non riesco a prendere le ulti Muove molto molto bene Io E il problema è che lei non ulta Sta muovendosi nel senso che cammina Manca botta Manca anche dopo E non è scema Sa che se ulto Sa che se ulta lei ulto anch'io Mi è giudicito Questa è lafashioned Oh Scella e basta non stare No, cosa? Da quando? Non è vero, non è vero, non è vero Non è vero, non è vero Non è vero, non è vero 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 la giaspacarra la scuola nella scuola Ma tu, è vero? Madonna Uuu, c'è ornig qua Tercio dai ma che c**o c'ha ma che porco dio di c**o ha ma dai i best il nostro score si se la porta non ci vedo c'hanno solo un po' di c**o da sopra, ma solo un pochino no, 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 ti vedo ho detto che non vede sta guardando il film e non si alza secondo me la cosa bella sarebbe stare nei cani sopra e ascoltare no 60 min no, che c**o ci fa qui Gora ah, scusa, è morta non è tutto arrivo, arrivo arrivo, arrivo arrivo, arrivo arrivo, arrivo arrivo, arrivo arrivo, arrivo arrivo, arrivo, arrivo loll loll non avevo il pallone ma no, neanche l'assist ma dai oh, quell'horn è continuamente d'umore c'ha del c**o stavo dicendo, pronti a ammazzare Darius poi ho visto la riga blu che ha dato l'assist no, ancora mi posso, ne manca un minuto in mezzo Libres, vuoi farti una kill facile arriverà a horn sicuramente non ti chiedo perché ho specificato che è con amore no, non lo fare no, 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 attento, via è andato FK0 ma no veramente oh, così ha detto, effettivamente è un po' che non lo vedo è andato FK su serio eh, fa male, neanche eh, molto se becca il pallone fa molto, molto il problema è quello che se l'avversario sa quando ha il pallone eh, con velo, con il piede oh boy ma la scappa guarda che meraviglioso che la stronzetta non l'ammazzo non l'ammazzo aiuto aiuto, aiutaaa eeeh ti do ti do ti do troppo sì, ma almeno l'assist ce l'ho fatta a prendere l'assist ce l'ho fatta io no ci sono impegnato è stunnato è imitato eeeh mi ha alzabato porca troia, sono morto perché mi ha alzabato c'è ragazzi tranquilli è un gioco anche se non gli svergimentano la vita reale attraverso i video guarda adesso è finito qui ieri mi è capitata in una partita avevamo top lane un bukong semplicemente ritardato ha sfidato ma un po' di tanto che al minuto 13 ci ha ingaggiati 1 contro 5 sotto le due torri del nexus ci ha ammazzati in 4 di contro questo da solo eh 1 contro 5 1 contro 5 qua per intenderci bello 2 2 3 2 3 2 3 3 4 purtroppo è normale si ma tu adesso non recuperi 900 di vita capisci eh all'inizio no ok recuperi recuperi salendo di livello il punto è che lui 900 di vita l'era più caravata di me minchia capisci il problema 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 8 11 11 11 10 11 11 non mi ricordo comunque lo sta formando date andatelo a fermare formare cosa andiamo a farmare o fermare non ho capito ah in tutti e due sensi direi ragazzi ho 4 livelli meno di me basto io tranquilli mi preoccupatevi no ti scappa bisogna fermarlo lol eh devo far giro ti salveremo sei morto e sai cosa ti ha ucciso sonio vabbè perchè non è zero eh che fuo muoio non stavo decallando c'è che sonio non mi avevo preso conto la u la voglia c'è un'altra cosa prometto o forse no prese al comune di merda dai picchia dai Scappa! Scappa! Povero! Ehi, ormai! un albero è un albero con piante più piccole ah ma son vivo io la frase ah ma son vivo cioè non so e non mi ero corto di essere già spawnato di queste leader smaitamelo smaitami bravo non per se Ah che zoi Ovviamente non queen in quanto queen Quindi in quanto zero però Arrivo 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 Ecco il cazzo che arrivo Vi arriva zoi Vi arriva zoi E lascia la rimara bene Zoi L'ho stunnata ma non in te No Si fanno la mia torre Perché non vedi in generale Mi hai scappato Se no L'ho ammazzato un'altra volta Ma c'è l'ultimo Beh ma gli fai danno lo stesso Eh lo so ma non devi approvita se qualcosa va male So sotto torre Senti qua Occhio arriva Chi è? Rise Cazzo mi fai la lingua Cazzo mi fai la lingua Cazzo mi fai la lingua E l'ha nato Si arrivo da dietro Andate qui Ma 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 neanche Ah si un assist E assist Tanti assist Zero e minuto Overo un zero No non è scemo Mi hai scappato via malissimo Mi cazzo E arriva a zero su Sergio Mi fa Mi fa tantissimo Lo stumpero fetto E' andata molto bene Ho fatto Ho fatto un bel numero Per salvarmi Vai anche Per scappargli Con quale vita? Mi one shot a zero Con questa vita E' libera si dietro Ci sono Ci sono ci sono Ci sono LOL Che fa Mi son messo davanti Ma non ha funzionato L'hai staccato? Digli C'hai trovato anche te Che effettivamente è vero Aiuto 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 No 1979 Sono Grazie HIT BUNO Bravo HIT CUO BABI�려 SPORRI T 게임 3 prendiamoci conto che quello che è andato peggio di tutti finora non è 0,5 l'iniziale è la solida io on to rise ho fatto anche troppo eh eeeh lo static che si fa? si fa il mana? poi si ingaggiano quindi niente va eeeh l'aposol non però questo ti dottono ti dottono ti dottono arriviamo? così la finiamo in 30 minuti no arriva 0 lo stunno e muore quasi non vedo più un cazzo no mi sa che fa una kill aiuto nooo eeeh 10.000 ha fatto ora nooo 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 però non ammazzate io 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 non sai cosa ne ho decidi io non ammazzate io penso che mi ammazzate a zero è una canzone stupida poi te la mando la duck song non confonderei duck con dick so che sei abituato ma non no no è la canzone della papa era una del cazzo però coincidenzialmente è anche una canzone del cazzo quindi e la madonna aha 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 se si tranquillo su chi l'ha fatto la seconda hill su chi l'ha fatto la seconda hill? ehm io sono l'ammazzato si chiesto non te lo tranquillo invece aveva ammazzato sonia buuuu no mi piace il drago in base alle tavole di pokemon vi son appena inventato il tipo pesce super efficace su tipo pianta hanno fatto un baron va bene andiamo un po' a toglielo adesso ti impedirà di farmi l'oro allora io semplici allozo ciao Orno come stai? sono andato a maniera ovviamente sto veramente a piede dovevi calmarli devi stare particolarmente grafico bravi non l'interavate eh andiamo sul next no picchiamo più a lui mi indica che boi si subuti time for the blue vorrei vedere come ci fermo eh quel punto adesso è fatta la basci AHHHHH bella madonna te l'ho fermato Orn è grosso tanto grosso la mia vita la mia vita eh non è più ex space dai chiudetela è durata abbastanza chiudetela prima di trinta abbiamo il giro se qualcuno ha da fare quella